Sì, guarda, mi ha taggato proprio ieri al golf club che avevo le scarpe che non si abbinavano allo smalto. Secondo me l'ha fatta apposta. Signora, buongiorno! Dai, ti richiamo dopo che ce l'ho solta commessa invadente. Ho detto solo buongiorno. Lei è nuova? Beh, sì, è nuova. Sì, raccontami la storia della tua vita, allora. Hai finalmente trovato il ragazzo che ti ama per quello che sei? Io no. In che cosa non ti sei laureata? Preferisci il mare o la montagna? Piuttosto quel maglioncino rosso in vetrina. Resta sul caccio oppure quello? Volevo solo sapere di che tipo di lana è. Del tipo di lana che si prende dalle pecore, signora. Intendevo la provenienza. Pure lana francese, signora. Potreste essere un pochino più precise? Ma certo, ora chiamiamo la pecora così capiamo se è più l'accento della Provenza o della Bretagna. C'è il telefono spento, la pecora. Che faccio? Lascio un messaggio.